Le Terme San Deologia di Tolentino offrono una serie di servizi medici specialistici all'avanguardia. La cardiologia, la cinecologia, la reumatologia, la pneumologia e l'ultima arrivata è la dermatologia. Effettuiamo anche piccoli interventi chirurgici. Abbiamo anche una serie di specialità che sono di complemento, come l'endocrinologia, la dietologia. Noi abbiamo, oltre che quelle Terme, un grande centro di dietologia. Abbiamo una serie di centri sparsi nel territorio che si chiamano alimentazione e movimento. In questi centri effettuiamo sia una parte riabilitativa cinica sia una parte riabilitativa dietologica.